Cosa è una rete neurale? Cosa poterà di scrivere, trenizzare e utilizzare, capire con linguaggio Python come poter scrivere una tua rete neurale e risolvere un problema con delle reti neurali. Io chi sono? Mi presento. Io sono Daniele Moltisanti, sono un data scientist che opero nel mondo della ricerca e sviluppo e lavoro da due anni, ho 26 anni e ho un background relativo ad ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano. Voi vi potreste chiedere chiaramente, ma tu come fai a spiegarci come si creano le reti neurali se hai solo 26 anni e solo due anni di esperienza? Bene, questa è una domanda molto lecita, però chiaramente io devo dirvi che oltre questi miei due anni di esperienza lavorativa, io ho alle spalle anche qualche anno di esperienza in più che già ho cominciato ad accumulare a partire dall'università, perché io sono stato sempre molto proattivo nell'utilizzo di framework di rete neurale, sono stato sempre appassionato di reti neurali, per questo motivo io mi sento di potervi spiegare come funzionano le reti neurali dal punto di vista pratico, non prettamente teorico, ma proprio dal punto di vista pratico, come si creano, come si scrivono, e per questo potete vedere che sono specializzati in algoritmi di deep learning. Nel mio portfolio personale potete anche vedere le mie esperienze che ho fatto in ambito personale, nel mio tempo libro, perché a me piace investire del tempo in ricerca di nuove tecnologie, è per questo che mi sento specializzato nella via della specializzazione verso il deep learning, perché ho approcciato molto con questo framework che è PyTorch, quello che vedremo oggi. Quindi in questo corso noi vedremo prima di tutto, faremo una panoramica di PyTorch, perché PyTorch è se ci sono altri framework che si potrebbero utilizzare, e vediamo il confronto tra questi. Poi faremo un setup dell'environment in maniera tale che voi sarete autonomi di poter scrivere delle reti neurali in maniera autonoma, ecco, e poi parleremo chiaramente dei pilastri fondanti di PyTorch, quali sono i componenti principali dal quale poi PyTorch si evolve. Quindi poi arriveremo nel cuore di questo corso, dove la cosa più interessante è chiaramente la definizione e come fare un training di una rete neurale.